Ciao da Nicoletta, quanto importante è la consapevolezza delle proprie risorse? Quante volte accade di avere in certi momenti delle energie alte, sentirsi pieni di forza, pieni di voglia di fare nel flusso e in altri momenti totalmente depauperati e vampirizzati da eventi, situazioni, persone, sentirsi svuotati come se si fosse annichiliti verso se stessi verso il mondo? Quanto è importante capire come gestire al meglio la propria energia, come riuscire a mantenerla alta, come riuscire a mettere i confini quando è necessario, così com'è, com'è importante, quanto è importante imparare a conoscere quali sono le nostre risorse, qual è il nostro carisma, qual è il nostro punto luce che ci permette di brillare e comunque di surfare nel mare degli eventi e, ultima cosa fondamentale, che forse è una delle poche uguali per tutto il tempo. Come mai magicamente delle persone in certi lassi di tempo creano tantissime cose, altre persone negli stessi lassi di tempo creano quasi nulla? Cos'è che fa la differenza tra queste persone, tra questi individui? Cos'è che fa la differenza nell'utilizzo delle energie, delle risorse, del tempo? Ecco perché ho creato questa nuova serata consapevole che ti donerà tantissimi strumenti per surfare nel flusso degli eventi, mantenere alta l'energia, gestire al meglio il tempo e sentirti soddisfatto nella consapevolezza delle risorse che hai. Ti aspetto, ciao!